La gaffe al trono over Tina Cipollari si dimentica di Gemma Galgani, la gaffe al trono over Gemma Galgani isolata al trono over? La distrazione di Tina Cipollari. E anche questa settimana, il pubblico di Canale 5 potrà ammirare i personaggi del trono over di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi tutto dedicato all'amore. . Anche durante il corso di questo nuovo appuntamento, le protagoniste del programma sono state Tina Cipollari e Gemma Galgani. La conduttrice della trasmissione ha iniziato la puntata mostrando una clip all'opinionista del programma, fin qui nulla di male. Ogni appuntamento del trono over inizia in questo modo, direte voi. Peccato che il video introduttivo fosse un riassunto di una clip già mostrata a Tina Cipollari. . . . . Dopo un attimo di esitazione, forse anche un po' di più, Tina ha ammesso errore, provando a giustificare la sua dimenticanza. . 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